Bene amici, non dovrete attendere gennaio 2023 per quell'aumentone per equativo delle pensioni, perché questo, lo sappiamo, è stato ufficialmente anticipato dall'ultimo decreto aiuti bis. Aumenti però, attenzione, che arriveranno in tre tempi, segnatevi quindi per bene le date, e infine, un'amara sorpresa. Mi raccomando, partiamo adesso. Adesso prima like, iscrizione, campanone, abbonamentone, ragazzi iscrivetevi, altrimenti i vostri prossimi vicini di casa saranno Mr. B a destra e Letta a sinistra, sinistra, sigla! Prima fase, prima data per l'anticipo del 2% della rivalutazione per equazione che parte dal 1 ottobre 2022, sempre però che il vostro assegno pensionistico non sia superiore a 2.692 euro mensili. Seconda fase, conguaglio della perequazione relativa all'anno 2021, che viene anticipato dal 1 novembre 2022. Pensate però un po' la stitichezza, parliamo di uno 0,2% di conguaglio per equativo. In pratica, tra ottobre e novembre, prossimi due mesi, vedremo una rivalutazione complessiva del 2,2%, incredibile, tutti ricchi contro l'inflazione. A breve, comunque, una circolare IMSS ci darà anche il dettaglio di tutte le pensioni che saranno coinvolte da questo acconto anticipo di per equazione, rivalutazione. Terza fase, da gennaio 2023, aumento per equativo pieno, probabilmente con un incremento dei trattamenti pensionistici, tutti, tra il 7 e l'8%. Attenti però, con un riassorbimento degli anticipi che sono stati erogati da quest'ottobre 2022. Avete capito il sorpresone genialone? È il famoso gioco delle tre carte. Prima ci fanno questo anticipo ridicolo e poi addirittura lo vanno, giustamente, a recuperare. In pratica, una grandissima vaccata, un non aiuto. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Spero che la rassegna sia stata in qualche modo utile. Se è così, like, iscrizione, campanone, abbonamentone. Alla prossima, grazie. Da Mr. Lull. Alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie. Grazie. Grazie.